Per me la sicurezza è al primo posto, con Adio d'Inglesina ho trovato la soluzione ideale per il mio stile di vita. 3, 2, 1, ciak! Ciao, sono Chiara, mamma di Andrea e faccio la guardia, per me la sicurezza viene al primo posto e Adio, l'Inglesina è il passeggino giusto per il mio stile di vita, è leggero, maneggevole, comodo, ma soprattutto sicuro per il mio amicurato. Prosti! Ciao, sono Pia Nicola, sono il papà di Teo, complimenti all'Inglesina perché ha fatto un passeggino veramente comodo, leggero e utile! Ciao, io sono Mario, sono il nono di Giada, sono molto felice di l'Inglesina perché mi aiuta a fare le spese, andare in giro per andare anche in la bar per prendere la propria. Ciao! 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 Ciao!